Molte sono le persone che utilizzano i lucchetti come serratura mobile per proteggere i propri beni o le cose più preziose. Nel corso del tempo il lucchetto ha assunto un significato simbolico divenendo metafora di devozione e fedeltà. Infatti già nell'estremo oriente, proprio lungo la grande muraglia cinese, l'usanza di applicare i lucchetti da parte delle coppie come pegno d'amore eterno risale ad almeno due secoli fa. La tradizione vuole che gli innamorati, incisi i propri nomi su un lucchetto serrato al parapetto di un ponte, li gettino dentro il fiume le chiavi. Essi non potranno più separarsi e rimarranno insieme per sempre. La storia che vi vogliamo raccontare parte proprio da qui, dagli innamorati, dalle loro emozioni e dalle loro promesse. Da quei desideri che spesso, nascosti o appena presagiti, possono originare torbi di pensieri anche nell'anima più nobile. Si parlano di quelle regioni segrete che attraggono appena, attraverso cui avrebbe potuto una volta o l'altra spingervi, anche se solo in sogno, innafferrabi l'evento del destino. Esaltare l'amore partendo dalla menzogna e restituire felicità partendo dalla disperazione sono utopie che sfociano da una realtà vissuta o valutata attraverso un metro diverso dalle regole cui siamo abituati, ma che il compositore ci trasmette con un grande insegnamento di tolleranza e quindi di amore.